la minu va a spasso con me l'avete visto un po più là forse ve l'ho fatto vedere già anche in altri vocaletti sto camminando e cerco di non farvi soffrire troppo ma a me quel contrasto di colore con la mimosa così sempre più imponente quel rosso mattone laggiù quelle tettoie i puledro che ho visto nascere lì è da solo lui la mamma ho visto nascere un puledro bellissimo questa campagna quel prato verde verde intorno agli olivi e come si asciuga man mano lungo questa pendenza questo è un pascolo questo è un pascolo per pecore bellissime che adesso non vedo e le spostano di là le altre mimose che abbiamo visto poco fa di là l'umbria io mi emoziono là c'è un impianto di melograni casali ci sono tanti trattori al lavoro oggi gli olivi sono stati proprio toccati parecchio da questo muschio vedo i rami rugginosi non è un buon segno ora recupero la mini minù ci sono tanti germogli tanti germogli è prestissimo per i germogli anche perché la neve potrebbe tornare però intanto prendiamoci questo e la natura è furba si sa difendere infatti fioriscono molto di più le piante in inverno come le rose e il mio lilari fiorente ha fatto tre fioriture quest'anno e meno in primavera scusate devo scappare dalla menu è un po' di più